Sei pronto a scoprire il potere dei materiali riciclati per trasformare la tua casa? In questo video ti mostrerò come potresti ristrutturare con creatività e sostenibilità dando vita ai tuoi spazi. Preparati per ispirarti e a prendere nota di idee geniali. Ciao amante del design sostenibile, oggi ti porto in un viaggio attraverso la ristrutturazione ecologica dove riciclo e creatività si incontrano. Benvenuto o benvenuta in un mondo di idee che rispettano l'ambiente e donano stile al tuo spazio. Il riciclo non è solo una scelta sostenibile ma anche un'opportunità per dare nuova vita a degli oggetti. Pensiamo ad una vecchia porta che può diventare un tavolo con un tocco di vernice e delle gambe innovative oppure una vecchia finestra che potrebbe trasformarsi in una cornice originale per le tue foto preferite. Scopri l'arte di trasformare il vecchio in qualcosa di nuovo e affascinante creando pezzi unici che raccontano la tua storia. La ristrutturazione con materiali riciclati non solo riduce l'impatto ambientale ma contribuisce anche al risparmio energetico. Materiali isolanti e riciclati come pannelli di sughero o lana di pecora possono mantenere la temperatura interna costante riducendo il consumo di energia per il riscaldamento e il raffreddamento. Lascia che i materiali riciclati lavorino per te e risparmia sui costi energetici mentre contribuisci allo stesso tempo a creare un ambiente confortevole e sostenibile. I dettagli fanno la differenza. Aggiungi dei tocchi unici al tuo spazio con materiali riciclati. Pensa a dei pannelli di legno provenienti da vecchie case che possono diventare una parete di carattere o un'originale testata per il tuo letto. Ogni pezzo racconterà una storia e aggiungerà personalità ai tuoi ambienti rendendoli autentici e coinvolgenti. Ricicla mobili e arredi del passato per dare un tocco retro e moderno al contempo. Dipingi i vecchi cassetti con colori vivaci oppure trasforma un'autentica cassa panca in un comodo sedile con un vano contenitore. L'arte del riciclo può conferire un'anima unica agli oggetti del passato trasformandoli in pezzi funzionali e stilosi che riflettano il tuo gusto personale. I materiali da costruzione riciclati possono diventare protagonisti di una ristrutturazione. I mattoni recuperati da demolizioni ad esempio o travi di legno antico o persino pavimenti in mattonelle possono essere riciclati e tutto può contribuire a creare un ambiente unico e suggestivo. I pavimenti in legno riciclato ad esempio potranno aggiungere calore e carattere mentre i mattoni daranno l'atmosfera di un antico cottage con un'aurea di autenticità ai tuoi spazi. Scegliere riciclo nella ristrutturazione oltre che nell'arredamento è una scelta che guarda al futuro. Non solo si riducono gli sprechi ma si dà anche nuova vita agli oggetti e si crea un ambiente unico e originale. Lascia un like se sei ispirato dalle idee di oggi e condividi nei commenti le tue esperienze di ristrutturazione sostenibile. Iscriviti al canale per altre soluzioni innovative ed ecologiche e per scoprire come il design può trasformare i tuoi spazi anche in modo sostenibile.